In che modo la holding può finanziare dei progetti? I giovani hanno la possibilità attraverso il nostro sito di scrivere il proprio progetto, dopodiché la holding si occupa di filtrare e vedere se il progetto è abbastanza valido e lo promuove all'interno dei propri circuiti di clienti privati che sono disposti a investire in nuove attività. Anche perché io credo, ad esempio, molti giovani che riescono a inventare un'app per il telefono, magari c'è un imprenditore che ha i soldi ma non ha l'idea di come realizzare un'app, un giovane magari ce l'ha. Evitando così tutto l'iter bancario che è quello là di chiedere dei finanziamenti che oggi è molto difficile dare un finanziamento a un giovane di 20 anni, 25 anni che non ha ancora un reddito. Per cui così ha la possibilità attraverso i privati che magari hanno dei soldi da investire in un grande progetto come un progetto di un giovane può sicuramente così andare avanti e saltare tutto l'iter bancario. Dunque non occorre avere un capitale alla base? No, assolutamente no. Siamo noi stessi che andiamo a promuovere il progetto nei nostri clienti. I clienti si accetteranno, creeremo una copartecipazione tra l'investitore, la holding e chi ha l'idea. No, assolutamente no.